Buongiorno amici della famiglia minimalista e buon Natale! Oggi video speciale! Video speciale, rapido rapido rapido, non vi tratteniamo troppo dal mangiare Dalla cena della vigilia e dal pranzo del... Esatto, dal preparare, dal mangiare Dalle zampette sotto al tavolo come si dice da noi Quindi questo video è semplicemente per augurarvi un sereno Natale Ci rivediamo tanto prima della fine dell'anno E per ringraziare questo 2022 che se ne va Esattamente Ci ha insegnato tante cose belle Per salutarlo Ancora il 2022, ancora non è finito Però questo special lo dedichiamo a quello che c'è nel 2022 O che ci ha allevato il 2022 Insomma, i risultati post-2022 Tutto questo dopo la nostra... Sigla! Gingo be! Gingo be! Gingo be! Scusate, non mi confondo le musichette Ben trovati amici della famiglia minimalista Oggi come anticipato parliamo... Un video speciale Per farvi gli auguri di Natale Per salutare... Per salutare questo 2022 che sta per terminare Per finire Ci rivedremo prima della fine dell'anno Ma oggi vi salutiamo... Salutiamo questo Natale Questa vigilia di Natale Insieme a voi In un video speciale In un video speciale Vai amore mio Allora... Raccontaci un po' Per me questo 2022 è stato un anno speciale Nel senso che mi ha aiutato a capire cosa io volessi fare nella vita Quindi a trovare la mia strada Ci siamo sposati Quindi è stato comunque il completamento Del nostro amore Insomma, della nostra relazione Anche se non è mai il completamento Secondo me Quando due persone risposto È semplicemente l'inizio Esatto, come abbiamo detto spesso È volentieri Non è la fine Anzi, è semplicemente l'inizio di una vita insieme E niente Grazie al 2022 Perché io sono una persona nuova Diversa Con più consapevolezza E anche più amore Per me stessa e per gli altri Nel 2022 ne abbiamo passate diverse Insieme Quindi in questo caso parliamo di insieme Tra virgolette Oltre al matrimonio Tante avventure e disavventure Perché è nato il canale Ci siamo sposati È nato il blog Tutta la gestione social Varia Abbiamo cominciato a pensare Un po' più In grande Tra virgolette Come direbbe La pubblicità In tv In grande E quindi Vorevamo regalarvi Qualcosina più Quindi abbiamo deciso Di farvi questo video di Natale Da parte mia Per quello che è stato per me Mi ha consentito Di cambiare il 2022 Pensavo di cambiare E basta Diciamo Tra virgolette Solo posto Invece ho cambiato Proprio totalmente La vita E Questo è il regalo Che mi ha fatto il 2022 A me Praticamente Più come dice Gloria Più consapevolezza Più amore Per me stesso Più attenzione Alle piccole cose Ecco Quelle che ti danno più gioia Forse di quelle Più grandi Imparare a gestire meglio il denaro Imparare tante piccole cose Che poi è un percorso Che continua Dagli ultimi due anni Speriamo Che anche a voi Questo 2022 Questo Natale Passa a donarvi Un momento di riflessione Un po' di serenità Un momento di riflessione Con voi stessi E un po' di serenità Assolutamente Quello sì Soprattutto Con i vostri cari E con voi stessi Esatto Per chi non è Con i carichi O per chi lavora O per qualsiasi altro motivo Anche il covid Volendo Sarà da solo Metta in loop Questo video Vi facciamo compagnia Se li vedo a tutti I video del nostro canale Sì Abbiamo fatto un beccato Esatto Noi con questo Vi auguriamo Un sereno Natale Re 2022 E ci rivediamo Tra una mangiata E l'altra Prima Prima del nostro Capodanno Esatto Amici della famiglia Menimia vista Buon Natale Ciao 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 Grazie a tutti.